Ciao a tutti da Modric, bentornati qui su Simulator News, dove andremo a spulciare un po' le novità in arrivo sui giochi già usciti e anche quelli che stanno per arrivare. In questo video vedremo principalmente tre giochi, Farming Simulator 19, un aggiornamento in arrivo molto interessante, vedremo un video di Track Driver, più che altro un gameplay trailer che recentemente è uscito e ci dice un po' su come sarà strutturato il gioco e avremo anche una novità importante su un gioco che ha fatto tanto successo sui computer e finalmente arriva per PlayStation 4 e Xbox. Io direi di partire da questo video pubblicato dalla Giant Software nella loro pagina Facebook, ha già raggiunto 159.000 visualizzazioni e vediamo un po' di che cosa si tratta. Si tratta dell'aggiornamento 1.2.0 che come vi ho detto arriverà entro fine mese per tutti i dispositivi. Guardate un po' che cosa potremo fare, potremo finalmente manipolare la mappa a nostro piacimento, potremo fare degli scavi, potremo costruire delle montagne, potremo dopo personalizzarle mettendo magari le sfumature. In questo caso vogliamo far sembrare che si tratta di una bella roccia, mettiamo un po' un segno della roccia, un po' di terra qua e là e abbiamo praticamente un editor della Giant Software che prima magari poteva essere fatto dai modder tramite l'editor della Giant, questa volta ci fanno loro un editor però pubblico per tutti che vi permette quindi di personalizzare al massimo la vostra fattoria. Volete avere magari un prefabbricato in un punto che è piuttosto collinare? Potete farlo diventare tranquillamente piatto e va a rispecchiare le vostre preferenze. Come potete vedere ha messo anche una stradina, qui va anche a togliere quello che il gioco ha lasciato, possiamo mettere dei mattoni, possiamo fare praticamente quello che abbiamo sempre desiderato su Farming. Dopo tanto tempo finalmente mettono qualcosa di veramente sostanzioso e interessante. Qui in questo caso sta facendo, mi sa, una specie di garage e lo collega dopo alla strada. Praticamente abbiamo una farm nostra, finalmente potremmo dire, eh la mia farm non è uguale alla tua, perché ovviamente andremo a personalizzare anche i terreni. Prattanto per quanto riguarda magari terreni non ben sviluppati oppure zone che vi piacciono, però non avete modo di costruirci qualcosa perché è troppo collinare, finalmente potrete personalizzarlo. Vedete, lui alla fine ha costruito una fattoria praticamente modellando il terreno e tutto il resto. Vi faccio anche notare che comunque questo qui non è che vi permetterà di modificare il terreno a gratis. Guardate lì i soldi, erano mi pare 10 milioni all'inizio del video e siamo già a 9.812.000. Perché questo? Perché ovviamente avrà un costo e sicuramente non sarà troppo esagerato. Qui ci fa vedere come era prima e come è diventato dopo. Molto bello, dai! Vediamo invece che cosa ci offre la Swedesco con Track Driver. Finalmente arriva un gameplay più sostanzioso che ci mostra un po' di più il gioco. L'abbiamo visto in anteprima anche su Poderagames, però non è che ci fosse così tanto da vedere perché comunque molte cose ancora le dovevano sviluppare. Vediamo il rifornimento, la possibilità di esplorare un mondo, la possibilità di sbloccare delle skill, quindi avremo delle missioni da compiere, avremo la possibilità di trasportare diversi carichi. Guardate un po', questo qui è il Mercedes, questo qui è il Volvo, non ci sono le licenze ufficiali, ma cerca comunque di essere un gioco piuttosto simile alla realtà. Non è un simulatore, attenzione, come gli stessi sviluppatori dicono è un open world. Vedete che c'è anche il giorno e la notte, c'è il parcheggio, c'è anche la possibilità di avere una certa logica anche da un punto di vista del traffico e questa è una piccola anteprima, un'anteprima che ci dà speranza su questo gioco. E sinceramente un po' scoraggiato riguardo all'anteprima che abbiamo visto noi. Però se metteranno veramente le cose che stanno facendo vedere e addirittura ne aggiungeranno altre, sicuramente potrebbe essere un gioco interessante, essendo che oltre a essere disponibile per computer, sarà disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox. L'ultimo video riguarda Bus Simulator. Ha avuto un sacco di successo Bus Simulator 18, io non l'ho giocato, magari lo giocherò in futuro. E sta per arrivare Bus Simulator 19, però da quanto ho capito solo per la console. Infatti vogliono trasportare questo gioco anche su console, non hanno chiamato di nuovo il gioco Bus Simulator 18, l'hanno rinominato e ci fanno vedere un po' quello che potremmo fare. Sinceramente uno di quei giochi che non mi immaginavo mai arrivasse su console. E altra cosa, c'è il multiplayer. Questa è una cosa che sinceramente mi interessa. Vedete, per PlayStation 4 e Xbox One, coming, arriverà nel 2019 come potete leggere qua. Come licenze vediamo il Man Liveco. Sicuramente è un gioco che mi incuriosisce e chissà se magari lo comprerò per PC. Ovviamente non il 2019 ma il 2018. Come avete visto ci sono tante novità interessanti. A voi qual è quella che vi è piaciuta di più? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e mi raccomando. E non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace al video. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime novità riguardo Simulator News. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook, Instagram, Telegram che trovate qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!